Le telecamere di TV City si sono recate a Villa Macrina per documentare lo stato in cui versa la struttura di via nazionale a seguito di numerose segnalazioni giunte alla redazione da parte di molti cittadini in particolare residenti della zona. Alcuni assicuri frequentatori della villa ci hanno spiegato che in assenza di personale addetto alla manutenzione sono loro stessi ad occuparsi della pulizia degli ambienti. Piene di zanzare, non si può nemmeno stare seduta su una panchina, poi un po' di riservamento perché oramai è tutto secco, non c'è irrigazione, c'è un tubicino rotto sotto le fontanine e i bambini vogliono bere e l'acqua è chiusa perché c'è un tubo rotto. Poi un po' di pulizia in più, se è possibile, è perché ci sono tutte le panchine con la cacca di scrementi degli uccelli che purtroppo non si può sedere nemmeno più sulle panchine. Le pulivo perché sono tutte sporche di scrementi degli uccelli. Noi per sederci un po' alla sera le abbiamo pulite noi. Siccome siamo degli abituati di Villa Macrina, la puliamo noi, non c'è nessuno che fa pulizia, però vediamo noi. Inoltre c'era una bellissima vasca con i pesciolini dentro, non c'è più la vasca, ci sono delle sfere sopra che non ci sono più, i pesciolini non ci sono più e nemmeno il motore c'è più. Purtroppo questa è la situazione a Villa Macrina. Se provvedete alla pulizia di quella vasca e la mettete in funzione, noi ve ne siamo grati. Se è possibile noi ringraziamo la Giunta, ringraziamo il Sindico, ringraziamo a tutti.